Le fiamme gialle del comando provinciale di Catania hanno eseguito un sequestro preventivo di circa 520.000 euro emesso su richiesta del GIP del Tribunale di Catania nei confronti di due imprese con sede a Bronte, la Cronos Publicità SRL e la ditta individuale Cronos Publicità di Eugenio Schilirò, rappresentate rispettivamente dai coniugi Nicolina Barba Giovanni, classe 61 e Eugenio Schilirò, classe 57, entrambi indagati per falsa fatturazione e dichiarazione fraudolenta. Le indagini della Polizia Giudiziaria sono partite sulla base di alcune verifiche fiscali eseguite dalla Guardia di Finanza di Paternone ai confronti delle due imprese operanti nel settore della promozione pubblicitaria con cartellonistica stradale. Ad attirare l'attenzione sono state in particolare alcune operazioni economiche che avevano inciso sui risultati d'esercizio delle due imprese nel triennio 2013-2016. Gli approfondimenti eseguiti dai finanzieri hanno fatto emergere come Barba Giovanni Schilirò al fine di abbattere le basi imponibili nel calcolo della tassazione, hanno immesso nella propria contabilità fatture false con la compiacenza di alcuni fornitori relative a generiche prestazioni di servizio in realtà mai rese. Questo escamotage ha consentito così ai due imprenditori di realizzare un profitto di circa 520.000 euro corrispondente alle tasse vase. Il Tribunale di Catania ha quindi disposto il sequestro preventivo delle disponibilità finanziarie delle imprese e degli indagati, dei beni mobili e immobili di proprietà fino al raggiungimento della somma. In particolare sono stati sequestrati 5 conti correnti, 7 carte prepagate, 2 depositi a risparmio, 4 depositi titoli e 2 polizze assicurative.